buongiorno e buona domenica la sesta del tempo ordinario il vangelo che ci viene proposto continua il capitolo 5 di matteo i versetti dal 17 a 37 è un testo lungo è il discorso di gesù che comincia a tradurre in indicazioni concrete le bellissime parole delle beatitudini e la rivelazione della nostra identità di luce del mondo e sale della terra il lungo testo che oggi ci viene proposto mette in contrapposizione la legge antica la legge della torà israelitica con la nuova legge che gesù ci propone e tuttavia è una contrapposizione solo apparente perché gesù stesso innanzitutto si premura di sottolineare che nemmeno un trattino un puntino una virgola della legge antica va perduta piuttosto la nuova alleanza la legge fondata in gesù e compine compimento pienezza realizzazione totale di quanto è stato preannunciato e promesso non si tratta dunque di togliere e mettere dell'altro quanto piuttosto di portare a un traboccamento perché la legge che gesù riconosce e che porta a pienezza e la legge dell'amore di fatto potremmo riassumere le indicazioni che riceviamo dal testo evangelico con una chiamata ad un amore totale radicale che prende tutta la persona ed è interamente donato a dio e al prossimo in particolare le tre parti che gesù propone recuperando alcuni dei comandamenti dell'antica alleanza riguardano l'agire il sentire e il parlare nel comandamento non ucciderai c'è infatti la decisione di attivare azioni gesti e scelte che siano soltanto per la vita in tutti gli aspetti anche nelle piccole cose e nei dettagli dei rapporti quotidiani non uccidere significa scegliere sempre di agire a favore di una vita del fratello e della sorella che abbiamo davanti anche quando questo comporta lo sforzo di imparare a perdonare se si parla poi della non commettere adulterio ci si riferisce nel vangelo a tutta la dinamica delle relazioni affettive in cui gesù è preoccupato di riportarci al rispetto profondo della dignità dell'altra persona nella sua diversità ma anche di una fedeltà e di una totalità di dono nell'amore che comprenda soprattutto l'intimità dei rapporti per gesù il matrimonio tra l'uomo e la donna riportandoci all'originale piano di dio sull'umanità è il segno più evidente più tangibile di questa bellezza di una affettività vissuta castamente cioè nel rispetto autentico di ciò che ciascuno è e di ciò che l'altro di fronte a sé e diventa ed infine il terzo elemento il non giurare che comporta l'utilizzo di parole e discorsi che siano radicati in una verità in una coerenza che si contrappone all'ipocrisia degli scribi e dei farisei per gesù non c'è bisogno di attingere aggiuramenti che riguardino il cielo la terra quando le parole corrispondono a uno stile di vita autentico per gesù la parola sì e la parola no hanno un valore assoluto e dunque si è chiamati a imparare a operare di conseguenza a quelle parole che maturano nel cuore si sviluppano nei pensieri e diventano discorso donato gesti affetti e parole quindi che diventano un'unità una integrazione perché la persona ciascuno di noi possa riconoscersi davvero uno la immagine somiglianza del dio trino ed uno che ci ha creato impariamo questo amore totale buttiamoci con coraggio nella pienezza di una legge che non è fatta di norme esteriori ma nel rapporto personale e intimo con dio la sua più autentica radice contribuiremo così a costruire quel mondo migliore che tutti noi con dio continuiamo a sognare buona giornata